Ciao, io sono Elisa Lombardi e io Donato Alto Mare. E nello spettacolo siamo Assunta e Alfredo, questa coppia innamoratissima che partecipa a questa maratona di ballo con sogni, speranze. Due persone che comunque hanno un forte amore che li lega, quindi vanno alla maratona proprio per darsi una possibilità di nuova vita insieme però. Le azioni dello spettacolo perché è stata appunto una vera e propria creazione dal nulla, molto sofferta ma in senso buono, in senso che sono stati due mesi belli intensi dove abbiamo la bravura di Giancarlo Valles, il nostro regista, è stata appunto quella di metterci soprattutto a nostro agio e dare la possibilità a noi attori di mettere a disposizione dello spettacolo la nostra creatività e le nostre idee. Dove ognuno di noi è proprio libero di sperimentare, di ricercare in maniera del tutto personale, poi ovviamente guidati da Giancarlo, quello che è la sua idea di personaggio, di lavoro, quindi è molto stimolante. Vi aspettiamo a teatro? Sì, assolutamente sì. Ciao.